Filippo Ungaro è il direttore della comunicazione di Save the Children e proprio la campagna di Save the Children, il futuro dei bambini e ora, è stata candidata al premio RETA 2022 nella categoria della comunicazione sociale. Quindi come prima domanda io chiederei subito quali sono i contenuti di questa campagna? Negli ultimi decenni ci sono stati dei progressi per quanto riguarda le condizioni di vita dei bambini e delle bambine nel mondo. Ora, questi progressi sono stati messi a fortissimo rischio negli ultimi due o tre anni a causa di alcuni fattori concomitanti, da una parte ovviamente la pandemia, il Covid, dall'altra i conflitti, non solo quello coraino, ma ce ne sono tanti nel mondo di cui purtroppo si parla poco e di cui i bambini sono le prime vittime e poi gli effetti dei cambiamenti climatici. Tutto questo ha portato a un fortissimo rischio, una fortissima messa al repentaglio di quelli che sono stati appunto i progressi nelle condizioni di vita dei bambini, delle bambini e delle adolescenze. Ora, tutto questo sta avvenendo in maniera un po' silenziosa appunto, siamo comunque tutti molto impegnati nella lotta contro il Covid senza dare la giusta attenzione all'impatto che può avere sulla vita dei minori, ci siamo molto concentrati sugli aspetti economici o sull'ultimo conflitto in Ucraina. L'obiettivo della nostra campagna è stato quello di cercare di mettere in evidenza che questi problemi per i ragazzi, per le ragazze, per i bambini li stanno vivendo ora in questo momento, contrapponendola appunto a una narrazione dove invece per il futuro ci immaginiamo sempre delle cose mirabolanti, il futuro si presenta sempre come un qualcosa che sarà migliore probabilmente del passato. Il futuro però per questi ragazzi non è domani, è ora in questo momento e in questo momento stanno subendo le durissime condizioni degli effetti di queste crisi di cui parlavo prima. Quindi ecco abbiamo voluto mettere in evidenza, quasi sbatterlo in faccia alle persone, contrapponendola appunto a una narrazione speranzosa verso il futuro, mettendo in evidenza le immagini e le condizioni dell'infanzia ed adolescenza, sottolineando l'urgenza dell'intervento che deve essere fatto adesso per salvare i bambini, le bambine e i ragazzi. In quale strategia si inserisce? Si inserisce in una strategia più ampia di sensibilizzazione, di forte sensibilizzazione delle persone, in questo caso in Italia, sui problemi dell'infanzia ed adolescenza, sia dei bambini che vivono nel nostro paese, ma anche dei bambini che vivono nel resto del mondo. Quindi forte sensibilizzazione e se possibile una strategia di incremento della nostra brand awareness, quindi del livello di conoscenza dell'organizzazione, ma allo stesso tempo, pur essendo una campagna istituzionale, ha una call to action legata al 5 per 1000, quindi anche raccolta fondi. Noi raccogliamo circa 6 milioni di euro l'anno attraverso il 5 per 1000, chiaramente vogliamo mantenere questa quota alta perché poi questi fondi ci servono naturalmente per portare avanti i nostri progetti contro la fame del mondo, contro la malnutrizione, a favore dell'educazione dei bambini e così via. Per quanto riguarda i risultati? Da una parte ci aspettiamo di vedere un incremento dei fondi raccolti attraverso il 5 per 1000, i risultati li avremo l'anno prossimo purtroppo, ma ci attendiamo anche di vedere gli indicatori legati al brand, in particolare alla brand awareness, quindi al livello di conoscenza di Save the Children, alzarsi e chiaramente non siamo in grado di essere così precisi nel vedere esattamente causa-effetto, cioè quanto risultato può portare lo spot, come dicevo prima si inserisce in una strategia più complessiva, ma chiaramente questo ci auguriamo che possa contribuire a fare alzare i livelli di brand awareness, anche questo lo vedremo a brevissimo e capiremo appunto se siamo riusciti a ottenere questi risultati.